Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sul secondo canale, sono su un pullman come avete potuto vedere e dove sto andando lo scoprirete tra poco Quindi raga lasciate il like e iscrivetevi se non siete iscritti al canale Ok raga sono steso e al momento qua sta piovendo e ora devo andare dritto da questa parte ma dall'altra strada Ecco Ora qui sta cominciando un po' a piovere quindi raga per adesso interrompo la riletrazione quando sono all'ingresso dell'haussan dove sto andando Perché sapete oggi sarà, cioè è brutto tempo come avete visto prima, sta piovendo anche, poco Io odio i giugni di piota quindi ho detto perché non andare all'haussan a fare qualche video per il secondo canale Visto che non faccio mai quasi video per il secondo canale in giro attualmente Ok ragazzi sono arrivato al parcheggio siccome fuori pioveva e sto per entrare all'ingresso Cioè uno degli ingressi, penso che più all'auto ci sono a meno, vadovi ci sono più ingressi sotto se ne sono tre mentre fuori solo uno Vadoè quindi quattro Adesso tengo un'automatica di camera giù un'ore che poi appunto si è disturbato da, visto che sta il registro Non è servito in faccia Mantengo la privacy Ah queste scale Almeno quando non c'è nessuno è facile salire E già Tanto mi chiedo queste macchine ogni volta come fanno A farle entrare Vabbè Ora che sono qui ovviamente dove vado secondo voi Ma nel luogo dove tutti i gamer vanno Quando ce n'è bisogno Dove è il paradiso per noi video giocatori ovvero il GameStop Ok qua interrompo perchè magari non posso registrare Registro una volta dentro Così almeno risparmio anche il tempo Ok raga entro Ciao Ok Ok Diamo un'occhiata cosa c'è con i giochi Vabbè io ho già la trilogia Anche il 3 Anche l'1 Il 4 Non l'ho giocato C'è la L'1 La C'è la 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 e poi c'è questo 7 euro 2016 che ho già risa 7 e 19 vedere se ti perché no poi a questo prezzo non so se mi converebbe prenderlo due che quando l'ho preso non ho provato niente secondo me ormai fa pena come gioco e il primo costa anche meno vediamo cosa c'è altro sempre interessante e 58 euro vabbè il prezzo vale ci siamo tutti i giochi vabbè ci sono tante belle offerte quanto vedo questo mi sa che me lo prendo magari ci possono anche il 15 quella volta l'ho becchiatto andando a milano dove ho contato il mio amico pic dead e non l'ho preso veramente in quel momento se non lo avrei dovuto prenderlo sono stato un idiota vabbè ero parecchio distratto bella copertina di evil 8 village non credo proprio che sia 4 euro ma anche se a mio parere quel gioco fa schifo quindi meriterebbe proprio questo prezzo ok diamo un'occhietta questa corsia in questo con mi basta già quello che ho per la PS2 che al solito i titoli dello stesso genere sono molto migliori quelli della PS2 bello questo quello proprio sul coltratto mi pare un poco però per una nuova chitarra non credo di poterlo giocare ma questo gioco mi suona multiplayer online e no grazie come fregare qualcuno con un gioco online che notica che non è online e non vuoi fare il tra se ti freghi da solo mmm faccio un po' il 3 mmm non ricordate questo qui ce l'ho già sul sulla raccolta sulla play o no vabbè giochi lego e con i questi ce l'ho mmm vabbè Final Fantasy Remake eccetera mmm vabbè quale titoli sono sempre uguali direi non che se giochi per la Switch mmm vediamo un po' questo è 847 e ci non è ancora riguardo sì una volta l'altra questa è la mia roba è la mia è la mia è la mia ah i giochi di acquisto sono sempre tanto però diciamo che eccezione a volte questo qua io ce l'ho per la Mario World 3D World per la Wii U se volete che lo porti come serie lo porti sul canale della Wii U che sarebbe ottimo per il film di Mario che è usito recentemente vabbè per adesso l'unico titolo che mi sembra vantaggioso prendere eh vabbè vabbè il 16 ciao ciao fatemi vedere un po' ciao ciao mmm ma si va ok ragazzi io direi che questo video posso anche terminarlo qui ora posso vedere vari libri convergente eccetera e ci vediamo al prossimo video che si conclude qui o forse non avrei fatto vedere un po' il gioco che compro se prendo qualcos'altro vediamo eh